Carlo, sì sì ma questa non sapete Grazie Grazie Oh basta, basta, basta Le serabili diventeranno nostre ascoltandole di giorno in giorno, di settimana in settimana A mio fianco ho l'eccellenza dello spettacolo italiano e non solo, tante sfaccettature diverse Mi si accade a suo figlio che gli sta insegnando un po' la fede calcistica fiorentina No, guarda, no ma dice sempre viola, viola Non voglio io portarlo su questa stanza Ma no, ma che stai? Magari Guarda No, è assolutamente là, probabilmente 90% di tutti quelli di settimana Guarda 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 Signora, la telecamera No Grazie a tutti.